Nei giorni scorsi il sindaco di Arco, Alessandro Betta, ha fatto il punto sullo stato dei lavori di ristrutturazione della veranda del Casinò. Purtroppo abbiamo riscontrato dei problemi strutturali molto seri, ha spiegato il primo cittadino, e dovuto apportare una modifica intervenendo con delle opere di carpenteria metallica molto significative. Tant'è vero che la veranda doveva essere pronta per la manifestazione del bonsai, ma così purtroppo non è stato possibile. Dopodiché qualsiasi tipo di intervento ha bisogno dell'approvazione da parte degli uffici provinciali, nonché di maggiori investimenti rispetto alla spesa preventivata. Vista la situazione, conclude il sindaco, siamo davvero soddisfatti di essere intervenuti, già buona parte dell'intervento è stato ultimato. Il restauro della veranda del Casinò è stato approvato in linea economica nel marzo 2015 per un importo che sfiora i 200.000 euro.